John parlava sempre con tanto affetto di quando era qui a Princeton. E ora Hansen dirige il dipartimento. Beh, allora può continuare a pavoneggiarsi. Sì, però non vuole avvicinarsi al campus. Credo che si vergogni. Tesoro, piccolo. Vuoi questo? Allora, Alicia, come vanno le cose? Le allucinazioni sono svanite. Dicono che con i farmaci è una vita molto tranquilla. No, io... Intendevo come stai tu. Penso spesso che quello che sento sia senso del dovere. Ho senso di colpa per voler scappare via. Rabbia contro John, contro Dio. Poi lo guardo e mi costringo a vedere l'uomo che ho sposato. E lui diventa quell'uomo. Si trasforma nella persona che amo. E io mi trasformo nella persona che lo ama. Non capita sempre, ma... È abbastanza. Credo che John sia un uomo molto fortunato. Alicia. È così sfortunato. Ecco. Grazie a tutti.